Milos Bocic, il nuovo esterno offensivo della Catania, giunto in città, è stato accolto dall'amministratore delegato e vicepresidente Vincenzo Grella e dal direttore sportivo Antonello Laneri. Un'iniezione di entusiasmo, cosa ti hanno trasmesso? Buongiorno a tutti, sono contentissimo di essere qua a Catania, in una società importantissima, con una storia importante, dove sono passati grandi giocatori, allenatori e soprattutto da non dimenticare la tifoseria, le persone che vanno a vedere le partite e tifano per la propria squadra, è una cosa importante e non vedo l'ora di iniziare il campionato. Vieni da un'annata conclusa al meglio, con il Frosinone, con la promozione in Serie A, poi il ritorno al Pescara, e adesso? E adesso l'importante è che io sono qua, perché l'ho voluto, mi hanno voluto fortemente, ma la cosa più importante è che io volevo venire qua, perché ci tengo e volevo dire ai tifosi che suderò la maglia, è una promessa questo e non voglio dire altro perché dovremmo dimostrare in campo i fatti. Parliamo delle tue caratteristiche tecniche. Cosa posso dire? Mi piace il dribbling, l'uno contro uno lo cerco spesso, posso dire di essere abbastanza veloce e niente di particolare. La cosa più importante è che voglio specificare, che voglio dimostrarlo in campo e non a parole. Conoscenza dei nuovi compagni? C'è qualcuno che magari è già incrociato? Allora, sicuramente ho incontrato Rizzo, che lo conosco, ai tempi quando abbiamo giocato a Pescara, e Marco Chiarella. Poi sto conoscendo pian piano tutti i miei compagni e sicuramente adesso andando in ritiro li conoscerò meglio. Aspettative sul piano personale e collettivo per la stagione che va ad iniziare? Allora, le aspettative verso di me sono alte e vorrei solo dire che vorrei fare la mia migliore stagione fino adesso e questo è importante. Per quanto riguarda invece la squadra? Questo lo dovremo dimostrare sul campo. Per quanto riguarda invece la squadra?